Abbiamo vinto i vincitori vittoriosi, siamo noi i campioni d'Europa, abbiamo vinto la Champions, questa amichevole è assolutamente importantissima, questa partita dovevamo vincere a tutti i costi, vabbè allora torniamo un attimo a serie, anche se sarà difficilissimo essere serio in questo video, sarà difficilissimo perché se dobbiamo veramente parlare della partita, è stata una partita, tanto su un amichevole non ha senso farlo in primis, quindi dai ci troviamo facendo due chiacchiere, non importa il risultato, non importa niente, però qui paradossalmente noi siamo riusciti a vincere questa partita nel modo più folle possibile perché noi all'interno, dentro i tempi abbiamo veramente fatto poco se non niente e alla fine di tutti i due i tempi, sia del primo che del secondo abbiamo deciso di fare, noi siamo così forti, siamo così superiori agli avversari che non abbiamo nemmeno bisogno di impegnarci perché quando noi decidiamo di far gol lo facciamo, decidiamo all'ultimo secondo di battere un calcio d'angolo per far gol e ciacca deve fare la deviazione e deve farsi autogol perché noi siamo troppo forti, perché sennò quella palla calciata da Fagioli sarebbe andata dentro, beh devo dire la verità però, Locatelli dà una gran palla a Barbieri, che Barbieri fa una gran progressione, fa anche una bella giocata per portarsela sul sinistro e tirare, poi lì nasce appunto il calcio d'angolo dal quale nasce il gol dell'1-0 della Juve, clamorosamente immeritato, ma veramente clamorosamente immeritato, non aveva minimamente senso essere in vantaggio, però calcio è fatto anche così, però poi pensi questa situazione non può riproporsi, non può succedere nuovamente, invece sì, perché ancora entro il secondo tempo poco se non niente, girandola di cambi entra anche Eiling Junior e Eiling fa un altro gol che è stato assegnato autogol di Holding, ma secondo me in realtà il secondo è più gol di Eiling, ma anche qui conta fino a un certo punto e noi troviamo addirittura il 2-0. Arsenal che credo abbia avuto il possesso palla 90-10 per l'Arsenal probabilmente, una roba del genere, Juve che è rimasta lì concentrata, applicata, però sì, occasioni da gol clamorose, palleggio non c'è stato, anche l'Arsenal in realtà, occasioni da gol clamorose, c'è stato un palo su un errore di Miretti, Miretti non mi è piaciuto, non ha fatto una gran partita, proprio no, un po' come l'abbiamo lasciato lo ritroviamo. Forse i due giocatori più propositivi della Juve nei titolari appunto Fagioli, Fagioli non mi è dispiaciuto, ha fatto una partita e l'altro è Barbieri, Barbieri mi ha impressionato, perché vederlo dentro comunque è una partita importante, perché adesso, parliamoci seriamente, è vero che anche dall'altra parte nell'Arsenal c'erano delle grandi assenze, però comunque l'Arsenal è una squadra che in questo momento in Premier League sta facendo molto 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 bene e ha dei ragazzi che anche loro sono entrati, quindi è stata più una partita di giovanili con qualche veterano, diciamo così, però è anche vero che comunque il loro campionato inglese in teoria lo giocano il 26 dicembre, è Boxing Day, quindi dovrebbero essere un po' più avanti nella preparazione, a noi importava mettere un po' di energia di gamba, di minuti di fiato nei polmoni, minuti nelle gambe, era una cosa importante, il motivo anche per cui si è fatta questa amichevole, però Barbieri mi è piaciuto, perché comunque è una partita complicata per lo status di uno come Barbieri e secondo me diventa anche interessante il ragionamento in funzione del mercato di gennaio che aprirà comunque a breve, mancano un paio di settimane, e a noi serve un vicequadrado, beh direi che Barbieri si candida magari a essere un giocatore che può entrare nelle rotazioni, perché diventa poi questa qua, la logica dietro all'under, ce l'ha già spiegato tante volte anche magari alcuni dirigenti della Juve, non mi è piaciuto Gatti, Gatti ha ballato, e non poco, in più occasioni, abbiamo fatto una partita più che altro con tanti errori tecnici, ma proprio nei passaggi banali, cioè il passaggio di Miretti su cui prende il palo l'arsenal, è follia, è proprio follia, e ne abbiamo fatti tanti, uno di Locatelli in appoggio per Rugani, Capitar Rugani, che a Londra vince 2-0 contro l'arsenal, cioè veramente credo che sia una delle partite più ignoranti proprio per contesto e per quello che poi è caduto in campo, però vabbè, ce lo prendiamo e ce lo portiamo a casa, e non mi è piaciuto Suleschi, è ratto esterno a tutta fascia nel 3-5-2 a sinistra, mi pare che non sia palesemente il suo ruolo, però queste partite giusto sperimentare, giusto provare, giusto vedere, giusto spostare, giusto capire, quindi non è una condanna, oddio Allegri che cosa fai, sei impazzito, no, ci sta, si prova, però non credo che possa avere né il passo né le giocate per far restare un tutta fascia, infatti Sule potrebbe essere uno dei giocatori a cui si potrebbe aprire anche l'ipotesi prestito, perché se ne era parlato, si diceva che Juventus deciderà comunque nell'ultime 48 ore di mercato per darlo in prestito oppure no, per andare a farlo giocare, lì davanti siamo un pochino tanti, c'è tanta concorrenza, invece sugli esterni siamo veramente pochi, decimati, e se proprio bisognerà fare un investimento va fatto lì, forse anche dietro comunque la coperta è abbastanza corta, Gabriel che era uno dei difensori di cui si era parlato più che trattati quest'estate potrebbe essere un buon centro-sinistra per la difesa 3, anche perché comunque Alessandro è in scadenza e quindi dobbiamo andare a puntellare la difesa con un innesto di quel tipo lì, chissà che non possa tornare fuori nel taccuino quest'estate, perché lì in difesa fare Bremer al centro più un altro centro-destra, che può essere Danilo, però poi il centro-sinistra ti manca, avresti comunque il terzetto brasiliano, se vogliamo proprio ricalcare l'idea che ci ha accompagnato in questa prima parte di stagione, e Bonucci, vabbè, Bonucci, Gatti, Rugani, in questo momento li vedo un pelo dietro rispetto al terzetto brasiliano, che comunque sono i titolari, oggi non c'era nessuno dei tre, vediamo se li avremo a disposizione per la cremonese, perché da quanto ho capito tornano poi dopo Natale, vabbè che non è che manchi tanto, siamo al 17 di dicembre, quindi questa è stata un po' la partita, niente da dire, niente da sottolineare dal punto di vista tecnico-tattico, ci sono stati appunto due spunti, l'abbiamo sfangata in questo modo, vabbè che ribadisco, vincere, perdere, pareggiare, in questo momento, non conta niente, namichevole, serve soltanto a fare un po' di corsa, proprio perché comunque si ricomincia a fare sul serio, mancano neanche, una ventina di giorni scarsa a tornare in campo, e invece loro giocano, loro Arsenal, loro Premier League, giocano tra otto giorni, quindi probabilmente era più importante per loro che per noi. Vorrei concludere il video con due pensieri, uno a sconcerti, che dopo la scomparsa di Mijailovic, che non avevamo ancora avuto il tempo di commentare qui, sono due scomparse grosse, secondo me, per il calcio italiano e mi dispiace, mi dispiace perdere due protagonisti, comunque, degli ultimi anni, Mijailovic è stata una botta, perché comunque sapevamo di avere, sapevamo di questo problema di Mijailovic, ma pensavo, forse speravo, mi illudevo che potesse essere qualcosa di superabile, magari non di così grave nell'immediato, pensavo potesse essere migliorato anche con questi anni in cui aveva avuto, riconosciuto questa malattia e combattuto questa malattia. Invece a sconcerti è stato fulmine a ciel sereno, non sapevo nemmeno stessa male, da quanto capitolo era ricoverato da qualche giorno, ma non sapevo di questa cosa, io a sconcerti l'ho pure incontrato in un hotel a Milano qualche anno fa. Mi dispiace davvero tanto per tutti e due, quindi ci tenevo in conclusione del video a questa roba qui. In seconda battuta, uno spoiler per domani, non ci saranno le pagelle di questa amichevole ovviamente, perché di cosa vuoi parlare? Un evento spiena di ragazzi e non ha nemmeno senso fare le pagelle per un amichevole, proprio la trovo una cosa illogica. Quindi ormai cercheremo di concentrarci un po' sul mondiale, con il post partita, domani sera, del mondiale, dopo oggi non ho visto per dire la finalina tra Croazzo e Marocco, domani mi guarderò invece la finale tra Argentina e Francia, secondo me vince la Francia, ma spero che vinca l'Argentina perché mi piacerebbe vedere Messi comunque campione del mondo e tifare Francia, comunque faccio un po' fatica, ma voglio prepararvi un TikTok nel quale vi racconto un po' tutto. Io domani ho un pranzo di Natale, quindi la finale me la guarderò insieme a tante altre persone, tra pranzi, giochi, feste e regali e magari qualche birretta e quindi vi racconterò poi quello che sarà stata la mia finale della Coppa del Mondo, anche in sette giorni di Natale faccio la finale mondiale, è una roba un po' particolare però sappiamo e niente, questo Arsenal 0 Juventus 2 entra di diritto, anzi entra nella storia come forse la partita più meme che io abbia mai visto nella mia vita. Fatemi sapere un po' quello che è stato il vostro Arsenal Juve e quello che sarà la vostra finale mondiale.